Tocco in avanti, prende la palla l'attaccante, il pallone verso Caruso, poi il tiro con il sinistro, ci riprova, pallone che viene salvato sulla linea. Tosti vuole il cross in mezzo, colpo di testa, arriva in attacco e la palla in rete, il vantaggio della Passo Corese, 1-0, la sblocca al 14esimo minuto. Tocco per Fontana, Nobili porta avanti la sfera con il sinistro, la scaraventa in mezzo, riparo del portiere, poi esce il tiro, la salva ancora sulla linea questa volta il difensore della Passo Corese. Lerno, cross in mezzo per Ferracuti, attenzione, Ferracuti al volo, la sfiora l'attaccante ma cade giù. Passo Corese ha spinto! Parte la rincossa di Nobili, parte Nobili, sbaglia il rigore clamorosamente. Nobili, cross in mezzo, attenzione, il colpo di testa di Ferracuti. Nobili vuole il cross, colpo di testa, ed è la rete di Fontana per il pareggio dello Space, 1-1. Nobili con il sinistro, cross in mezzo, pallone fuori per Fontana. Uno contro uno, vuole centrarsi in qualche modo. Mattei, pallonina, vanno a cercare Ferracuti, attenzione, Ferracuti il cross, arriva Mattei, poi il tiro di Caruso al lato. Parte Nobili con il sinistro! All'angolino basso, il 2-1 dello Space, con Nobili. Parte Nobili. Nobili! E rimedia al primo rigore sbagliato, 3-1 Mundial. Poi Fontana, vince il rimpallo Fontana. Avanza il numero 3. Tocco per Gemini, poi Fontana, Fontana attraversa! Il destro in porta, a giro e finisce qui. Space Mundial batte, passo corese, 3-1.